L'ex opinionista del grande fratello di Alfonso Signorini è tornata a riflettere sulla sua vita sentimentale dopo essersi allontanata dal noto conduttore italiano Paolo Bonolis. Tuttavia, l'attuale notizia coinvolge anche un'altra questione intrigante che potrebbe portare alla luce alcune indiscrezioni interessanti sulla famosa imprenditrice. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire tutti i retroscena, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. La notizia scottante riguarda Sonia Bruganelli, che sembra aver trovato un nuovo amore. Ci si chiede se queste indiscrezioni siano fondate, considerando che la notizia di oggi è decisamente sensazionale. Si parla di un possibile nuovo flirt tra Sonia e una celebrità del mondo dello spettacolo e della televisione. Questo è un gossip che non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale né una smentita. La notizia ha cominciato a circolare sul web, coinvolgendo un nome noto che si è distinto nella precedente edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese. Queste voci sono nate da alcune foto che, agli occhi degli utenti, sembrano suggerire qualcosa di più. La situazione è ancora molto incerta e ciò che ne pensate è aperto all'interpretazione. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.